Lunedì 13 agosto 2018. Mancano 140 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santi Polito. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Polito e Concordia. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Benzi. Deriva dal nome longobardo Bendizzo, alfiere, trasformatosi poi in Benzo. Benzi è un cognome tipico del nord Italia con due ceppi principali a Genova e ad Alessandria. E ceppi secondari nel milanese, nel modenese e nel riminese. La variante Benzo è diffusa in Piemonte e Liguria, mentre Benzon, più raro, è veneziano. Benzoni è presente in tutto il nord, ma è particolarmente concentrato in Lombardia. Accadde oggi. Il 13 agosto del 1961 il governo della Germania Est fa erigere il Muro di Berlino, che dividerà in due la città fino al 9 novembre 1989. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo Alfred Hitchcock, nato a Londra il 13 agosto 1899. La citazione da ricordare. I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli stare. Umberto Eco. Dice il saggio. Chi pone la trappola sempre allo stesso posto. Non prenderà alcuna iguana. Un consiglio al giorno. Vi è venuto il singhiozzo? Provate a ingoiare una zolletta di zucchero inzuppata nell'aceto. Il singhiozzo dovrebbe sparire in poco tempo.